Quest'anno in collaborazione con FITA è stato introdotto un premio appunto FITA, stasera verrà il presidente nazionale FITA che premierà i soggetti che sono stati individuati, miglior attore, migliore regia, migliore attrice, migliore scelta linguistica. Ci sarà questa premiazione che è il coronamento di una nuova visione del teatro che vuole acquisire pubblico, vuole premiare chi si proietta verso l'offerta al pubblico di spettacoli e come ho detto prima in conferenza stampa non vorrei che qualcuno pensasse che il teatro dialettale è un teatro minore perché non lo è. C'è stato finora un pubblico sempre a riempire del teatro, delle compagnotte e delle compagnie e il pubblico è entusiasta a fine spettacolo, tutti che uscirono dal teatro, tutti che erano contenti di questa rastena. Penso che come ho detto prima sarà sempre il prossimo anno ancora migliore perché cercheremo sempre di migliorare.